Diciamo che Cash Converters è una società australiana che opera praticamente in tutto il mondo e mio padre è stato il primo a, diciamo, aprire un Cash Converters, no, anzi il secondo è stato, ad aprire un Cash Converters in Italia. Prima c'era Varese, prima c'era Varese e poi nel 98 è arrivato a Milano ed è stato un successone. Certo, è una novità, è una cosa nuova. È stata una cosa nuova, non c'era ebay, non c'era internet, non c'era subito, quindi se tu volevi vendere qualcosa venivi da noi e ti pagavamo subito.